Dottor Roberto Calosi, psicoterapeuta e psiconcologo dell'azienda sanitaria di Firenze, si occupa anche del centro di ascolto delle cure palliative, oggi si presenta a questo festival del Saper Vivere, lei peraltro ha collaborato anche lo scorso anno con tutta l'equipe e sta organizzando proprio il centro di ascolto, quindi un lavoro complesso. Sì, diciamo che il centro è all'apertura ormai imminente, abbiamo tutto quello che serve, e quindi c'è solo a decidere, d'accordo con gli enti locali, quale è il momento più opportuno e con il volontariato. Il mio compito riguardava la formazione e il coordinamento dei volontari, d'accordo con gli amici di qui e sulla base della mia esperienza. Abbiamo ritenuto che l'aspetto fondamentale era l'apprendimento della competenza, della capacità di ascoltare. Naturalmente questo sarà quello che chi telefona si aspetta, insieme alla possibilità di essere orientato e alla possibilità di sentirsi accolto in una rete di servizi e di opportunità. C'è da aspettarsi che chi telefona possa presentare anche delle emozioni molto forti, di cui magari non è facile la gestione, e quindi l'educatore che risponderà e che accoglierà deve essere particolarmente abile nel delimitare l'ambito del proprio intervento, delle proprie possibilità, ma nel potere anche dare spazio attraverso delle tecniche anche di restituzione e di inquadramento e decodifica della domanda, e quindi questo attraverso quello che dicevo di Anzi, un percorso che in fondo è un percorso artistico. Vale a dire, si è visto che nell'attitudine all'ascolto si mettono in campo le stesse competenze che si mettono nel fare un'opera di scultura o nel fare un quadro. Ci vuole necessaria umiltà, ma allo stesso tempo ci vuole coraggio, ci vuole spregiudicatezza, perché non si può avere delle serbe o dei tentennamenti. I tentennamenti se ci sono lasciano traccia. Si deve essere in grado di cogliere il positivo, e questo specialmente quando gli aspetti positivi in questo ambito non saranno molti, non saranno evidenti. Quindi bisogna anche essere in grado davvero di avere questa grande fiducia nell'uomo. E tutto questo in una telefonata? E tutto questo in una telefonata senza poter disporre di tutte le informazioni che vengono dal vis-à-vis, diciamo che sono almeno il 50% di una comunicazione verbale, però contando sul fatto che c'è una forte motivazione, un forte entusiasmo da parte degli educatori, sicuramente chi telefona avrà un misto di sentimenti, avrà dei bisogni, avrà delle curiosità, avrà delle diffidenze. La questione è, la sfida è nel creare un'opportunità, un riferimento, un presidio stabile, a cui la persona, che sia paziente, che sia caregiver, che sia operatore anche, possa fare riferimento anche da un ambito estrarregionale, in ogni momento anche oltre quella telefonata. A quando l'apertura di questo centro? Questo di preciso non lo so dire, so che va concordato con tutte le presenze sul territorio. Comunque viene garantito, al numero che è stato dato, una presenza a rotazione di operatori qualificati il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 15 alle 18. Oggi nel suo intervento, tra le varie riflessioni che ha fatto, ha parlato anche di salutogenesi. Sì, questo è effettivamente un cambio di mentalità, che è più noto in Europa che da noi, nella cultura, diciamo, almeno a livello di Consiglio d'Europa, vale a dire, si tratta di cominciare a considerare, lo spunto è venuto dall'urgenza economica, considerare non tanto le ragioni per cui uno si è ammalato e quindi cercare di provvedere, ma le ragioni per cui uno si mantiene in salute. Quindi da dove viene la salute? Questo poi viene da Antonovsky, che è un israeliano, ma ci ha dato degli strumenti di riflessione importantissimi, per cui ad esempio si potrebbe scoprire che il lavorare per gli altri è un fattore di protezione della salute, ad esempio. I volontari, insomma, sono... I volontari, sì, indirettamente... Prendersi cura dell'altro. Sì, prendersi cura dell'altro, sicuramente. Non è che uno lo possa fare con questo scopo, ma è sicuramente un effetto secondario. Dopodiché Antonovsky ci ha anche fatto scoprire degli aspetti che andrebbero approfonditi, perché lui ha scoperto, studiando la vita e le condizioni di salute di ultra 65 anni israeliani negli anni 70, 80, quindi anche superstiti dell'olocausto, quindi persone che non avevano avuto una vita facile, quali erano i fattori che consentivano a queste persone anziane di stare fondamentalmente bene in salute? E lui ha scoperto che, può sembrare sorprendente, ma non lo è, che il primo fattore di protezione della salute era un buon rapporto con il mondo spirituale e con i propri defunti. Naturalmente, al secondo punto, veniva relazioni sociali ricche, quindi sicuramente erano persone che non passavano la giornata davanti alla TV, e poi il censo e l'alimentazione venivano solo come terzo e quarto fattore. Questo è piuttosto sorprendente. Torniamo invece alla questione dell'ascolto dell'altro. Lei ha parlato prima di evidenziare gli aspetti positivi, ma quanto è importante questo farlo anche nella nostra vita quotidiana quando ci si approccia con l'altro da sé? Sì, questo fa parte anche di esercizi, diciamo, di autoeducazione. Cioè, in effetti, chi fa un lavoro nell'ambito delle relazioni di aiuto dovrebbe fare una buona manutenzione del proprio strumento di lavoro che siamo noi stessi. E quindi, da questo punto di vista, diciamo che vi sono degli esercizi, ad esempio, che sono presenti in molte culture. Per quello che mi riguarda c'è un libro di Steiner, i sei esercizi, in cui si danno dettagli su come lavorare, sul controllo dei pensieri, sulla gestione delle emozioni, sulla temperanza, sull'imperturbabilità, sul cogliere il positivo, sull'armonizzazione di tutte queste facoltà, che ha un aspetto, una importanza rilevante sia nell'ambito della propria vita personale, ma sia nell'ambito dei rapporti con gli altri. Ad esempio, faccio solo un esempio, quando si parla del controllo dei pensieri, se siamo in un'attività di gruppo, in un'equipe di lavoro, in cui si vuole perseguire un obiettivo, il controllo dei pensieri significa anche far tacere tutti i propri ragionamenti su quello che l'altro sta dicendo, altrimenti si smette di ascoltare e si prende il proprio. Ma significa essenzialmente, il controllo dei pensieri significa essenzialmente, appunto, da un lato, quindi, saper far silenzio, ma dall'altro anche regolare la propria calma, la propria volontà, perché la stessa calma è un fenomeno della volontà, in modo tale che io possa intervenire solo se è necessario. Cioè, io non intervengo se qualcuno ha già detto quello che io direi e io non intervengo se in quel momento posso interrompere il flusso di un ragionamento che un altro sta facendo. Cioè, in sostanza, anche la scelta di quando intervenire è una facoltà autoeducativa importante. Questo solo come esempio, insomma. Il collere del positivo poi naturalmente è in quello che, anche quando siamo di fronte a delle situazioni molto difficili, come si parla, nell'ambito di una malattia grave o di un fine vita e così via, a maggior ragione bisogna collere il positivo. Ce l'hanno insegnato in tanti, anche in ambito tecnico, tra gli altri Elisabeth Kubler-Ross, che è celeberrima, che dice che la questione è che non è tanto di credere in qualche cosa, ma di sapere con certezza che la morte non è altro che il passaggio, un altro stato di coscienza. Un po' come dice Peter Sellers quando si allontana nell'acqua, nel film, oltre il giardino. La vita è uno stato di coscienza. Allora, la questione fondamentale per cui noi possiamo essere di aiuto a qualcuno è che noi non abbiamo paura della morte, della nostra propria morte, non solo di quella altrui. Per far questo bisogna farsi delle idee chiare su questo, a cominciare dallo sperimentare in noi stessi, da vivi, da sani, un qualche cosa che non sia sottoposto presumibilmente a peso, numero e misura. Se io posso fare questa esperienza, a quel punto lì non ho più il terrore di quel passaggio. posso dire di non sapere cosa mi aspetta, ma posso avere quella fiducia che è quanto mi basta per orientarmi. Grazie per la visione!